Io credo che oggi sia una giornata molto importante per la città e quindi una pagina importante scritta dal Consiglio Comunale anche della città di Napoli ratificando la nostra delibera di giunta perché ci consente con l'istruttoria avviata presso Cassa Depositi e Prestiti di ottenere ad aprile questi oltre 200 milioni che servono per pagare i creditori del Comune di Napoli, creditori che a seguito dei tagli massicci dei governi degli ultimi tempi, compreso l'ultimo, ovviamente non si riuscivano a pagare. Quindi questo significa risorse economiche che vengono iniettate nelle tasche di persone che lavorano per la città, quindi da imprese a società a professionisti a lavoratori, quindi questo consente di far camminare più velocemente la città e metterla maggiormente in sicurezza. A questo si aggiunge che la credibilità della nostra città è stata ulteriormente dimostrata dal protocollo importantissimo che abbiamo firmato l'altro giorno non solo con Cassa Depositi e Prestiti ma anche con altre partecipate di Cassa e col porto in cui c'è una visione strategica della città in termini di sviluppo, di impresa, di lavoro e anche di difesa dell'ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici. Quindi Napoli diventa sempre di più un punto di riferimento, una città sempre maggiormente messa in sicurezza, certo gli ostacoli non finiscono, i conti continuano a essere complessi e complicati. Ricordiamoci sempre che 110 milioni circa di tagli li abbiamo avuti anche a fine anno che hanno messo in seria difficoltà le casse del Comune di Napoli e quindi noi abbiamo sempre a che fare con una situazione assai complessa causata soprattutto dal debito storico che è quello che è stato accumulato nel corso dei decenni del passato. Quindi sicuramente queste sono buone notizie che ci fanno stare a noi e alla città più tranquilli ma non è finita la corsa ostacoli di cui ormai siamo diventati campioni.